Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Qua finissima sera un nuovo video con... Io, io, Antonio. Ok, oggi vi spiegheremo dopo due mesi di assenza, però vabbè, come giocare insieme in singolo contro. Intanto dovete andare sui server asiatici o dell'oceania, solo che l'oceania lagga di più, e fare applica. Ovviamente pure gli amici con cui state giocando devono mettere server asiatici, sennò non funziona. E poi dovete avviare allo stesso secondo, sennò c'è il rischio che non state nella stessa lobby. Quindi ora potremmo... Allora, mi si è caricata ora, sono dentro. Sì, però io sono ancora la schermata principale, quindi... Come la che non mi fai? Vabbè, ci vediamo in partita. Sì, ci vediamo in partita per un esempio pratico. Ciao. Cercate di evitare il teaming, noi lo faremo solo per farvi vedere un po' come si fa. Però cercate di evitare il teaming, sennò rischiate di essere bannati, insomma. Allora, la gente c'è, c'è roba. Ah, tu sei questo, Ant? Quello sotto di me? Io ho un ombrello rosso. Eh, pure io ho un ombrello rosso, abbiamo la stessa skill. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Siamo potremmo essere in tre. No, no, vero, quattro, proprio per tutto solo, e tu tu, tu. Non capisco niente, c'è. Sì. Oh, cieco. Vengono, non me ne ho. Però ti ho visto un po' un po'. Oh, un po' un po' del mondo. No, no, no. Vero e buono. Sento granate in maniera aggressiva Non sono io, giuro No, sì, sono io Ok Granata fumogena che nerferanno a breve No, la toglieranno, mi sa Si sta laggando veramente Sì, ma ci serve un laggano un pochettino Però ve li consigliamo Perché quegli asiatici fanno Sono decisamente peggio Lasciate i 10 like se volete altri video con Antonio Oppure altri uno contro uno Così, anche se questo non è uno contro uno No, aspetta, lasciateci Allora, io sto sul tetto della casa E... Dimmi dove sei tu Eh, nel... Nel... Nel negozio Ok Ok E... Mazzolo Sei sull'altra casa, hai salito delle scale? Sì Sei dove il vampa? No Sei sul tetto di una casa? Eh no, sono sul tetto della pescheria Ok No, non mi sai Sono io quello, Anto, sono io quello No, no, fidi, non sono io quello Come non sei tu? Quello che ha la tua storia Eh, non so, ora te lo uccido Quanto lagga Che sta succedendo? Va bene Oh, 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 no Perché, perché vi sto bevendo? Va bene Questi lag di oggi Ok E niente ragazzi Pure per questo video Ma è tutto Lasciate 10 like per un altro video con Anto Oppure con un altro Uno contro uno E niente Ciao gente